In un attacco che ha già la certezza in Bomberrecino, la vera soppresa potrebbe essere Carlo Manicone. Arrivato a Piacenza per rinforzare il reparto offensivo, ha già trovato il gol negli allenamenti congiunti estivi e ora è pronto a vivere una stagione da protagonista. È un ambiente positivo, tutta gente che ha voglia di lavorare, mi sono veramente trovato bene, sono contento di essere arrivato in un ambiente così ambizioso e con tutti i bravi ragazzi, c'è veramente un bel gruppo che secondo me è quello che alla lunga può fare la differenza. La categoria non è semplice, anche perché è un campionato dove ne vince una e lo sappiamo benissimo che quello è il nostro obiettivo e dovremmo fare di tutto per raggiungerlo. Io come giocatore so quello che posso dare, posso giocare sia da prima punta che come seconda punta, quindi posso essere un po' più d'utile a disposizione per le esigenze che sono quelle della squadra. E ancora sì che ora non aspettano altro che l'inizio del campionato, con la voglia di lottare per la vittoria in un girone tutt'altro che semplice. Secondo me quello che noi dobbiamo focalizzarci di più è su noi stessi, poi il girone non l'abbiamo deciso noi, quindi quello che deve essere la nostra bravura è concentrarci sull'allenamento, sul giorno dopo giorno, su trovare più facilmente tutte le idee che ci chiede il mister, quindi dobbiamo concentrarci veramente su di noi e poi non pensare ad altro. Grazie.